Anche a Mondello con 3 c'è la rete velocissima a 42 MB più estesa d'Italia. Dai, dai, dai! Quanto è veloce questa rete 3? Non è veloce, è velocissima. Velocissima? Ho scelto a 3 perché risparmio. Con 3 ho la bolletta più leggera. Con 3 navighi veloce sino a 42 MB. Passa a 3. Hai 400 minuti, 100 SMS, 2 GB, a 15 euro al mese. Tassa inclusa per sempre. Dove Mondello? Dove si va? Da Maga, da te, perca? 3. 3 più valore per te.